guardala jean baptista rotondo e vaso di prigione lo conosci già si è diverso cosa sugli assassini è probabile che cercherà di andare dai templari a riferire quello che sa assassinalo prima che la guardia nazionale lo trovi è laggiù che fuggì attraverso le fogne avevo una question posé quello che hai fatto tu e ti trovo a ozziare sul lavoro un'altra volta giuro che ti faccio frustare è proprio tu vecchio mio questo è un lavoro è un lavoro è un lavoro è un lavoro Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.